Pepe Enz? No, 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 non farlo, non lo reggo. No, ok. Fai l'uccello che mi piace tanto. Grazie mille. Canny! Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie per essere passato e grazie per i dieci bits. Canny! Che feels, che feels, Pepe Enz. Pepe Enz. Cosa devo fare? Stavo parlando di quanto sei bello, Kenny. Non ho ascoltato. Perché questi... perché mi fanno fare queste cose inutili? Solo un secondo, goofball. Voila. Voila. Sa anche parlare francese, cioè, incredibile. Ehi, fuori da lui! Un muertos! È proprio un muertos! Eh, questa cosa è una cazzata, però, scusami. Se io non lo uccidessi e lasciassi che prenda il bambino, crea un... un paradosso spazio temporale incredibile. Cioè, sei qua, sei obbligato a ucciderlo. Non puoi lasciargli mangiare il bambino. Non lo uccidessi, piccolo ragazzo. E... 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 Cammie! Anche se tuo figlio mi stava sui coglioni, maledetto d'acqua. Ci cazzo è rebecca per te. Grazie per ciò che stai facendo. Sempre mettendo lui prima. Tu hai fatto così tanto per AJ come ho. Rebecca sarebbe anche grazie per te, anche. Sì, ma... Sei la sola mamma che ha fatto. Rebecca! Sì, ma sti personaggi nuovi, cioè, nuovi, che non si... Sarà la madre... ...di AJ. Ma è il bambino più brutto del mondo, mi è passata la voglia di fare sesso con una cosa. Però sì, AJ è davvero brutto. Morire AJ... Uccidere AJ? È worth fighting for. È la madre di AJ morta nel... ...morta di parto la season scorsa. Non me la ricordo proprio. Oh... ...di bambini sono assicuri del caldo che sono. Quindi ho pensato... ...Snow you survive qui, spero che Wellington... ...cappi a vedere qualche giorno. E' lo duck di AJ. Uccidiamo AJ, hai per lui. Non ha bisogno di amici, gli basta la mia pistola. E' vero, io lo so che potrei. AJ potrebbe usare un amico di sua propria agee. E' vero che sua madre la tipa di Alvin. E' inutile che io dica che non mi ricordo chi sia Alvin, però grazie. La vita non significa molto senza le persone che puoi rilasciare. Sarita ha sempre detto... ...la famiglia... ...è quello che hai fatto. E' vero. Non è colpa tua, Kenny. Stai buono, che sei il più bello. Abbraccialo, abbraccialo, abbraccialo Clementine. Abbraccialo tantissimo quell'uomo senza gli occhi. Senza l'occhio. Duck era un bambino speciale. No, è troppo ritardato per i pepe. Duck era davvero un bambino strano. Basta linfa. Basta linfa. E chi vuoi mettere un pezzo di legno infuocato in bocca? Che ne dici di questo? Cosa ridi Clementine? Sei troppo grande per ridere la stacola. No, non dire ste frasi. Che Kenny muore in un incidente d'auto come un... ...cincillà lanciato contro un muro. Un mese dopo. Questa è pigrizia stilistica, ragazzi, comunque. Troppi flashback. Carver ti dice niente. No, non mi ricordo niente. Carver. Mi ricordo il nome Carver, ma non mi ricordo assolutamente chi fosse. Possibile? La madre... Ah! Ho capito! Ok, l'ho capito. Eh, ok. Ok. Mi ricordo anche che faccia c'ha la madre adesso, ok. Ok. Sì, sì, ok. Ho capito adesso chi è. Mi ricordo sia la madre sia Carver. Ok. È stato Carver a ridurre così Kenny con la benda sull'occhio. No, adesso ricordo. Tira fuori il coltello. Che senso ha dire chi c'è lì? Skin. Again. Questo è un mese dopo gli eventi che sono accaduti prima e prima di quanto di quello che accadrà molto dopo. Cazzata, nera. Clementine, io so che questo è difficile. Mi sento molto scusate per quello che si è accaduto con AJ. In realtà. Del fatto che abbiamo fatto le figure con le mani. Non è facile per nessuno. Un po' narcisista dire lui ha bisogno di me. Più Clementine di chi ha bisogno di lui. In verità. Eccoli i resti di AJ. I viveri. Hyperluna. Sì, ho capito. Non potete rubarmi un bambino e in cambio darmi la energy bar, l'acqua sporca e una sborrata su un fazzoletto. Sborrata colorata, tra l'altro. Quanto duro sto pezzo di carta. È durissimo. Che diavolo è? Sarà di AJ. Buonasera Andrea. Buonasera, buonasera, buonasera. Bentornato dal ristorante. Più o meno, eh, mi avete sbattuto fuori dal gruppo. Ho capito. Grazie, è di dolci. No, non è pelata, è rasata. Cioè, immagino, magari se le hai tolti perché in un'invasione zombie dove ti afferrano per i capelli, lei essendo tipo una combattente gli viene più comodo non avere i capelli. Ma quei tubetti rossi sono i gel lubrificanti durex. Assolutamente. Assolutamente. Dato che sta diventando donna, gli incomincio a dare i pezzi. Avevo Lee, ah, Pepe. Come non avevo mai parlato? Cosa c'entra Lee? Mi sembra la meme, quello del bimbo. E' un demone lei. E' tua amica questa, eh? Tetragrammaton, tua amica. Mi sbattete fuori dal gruppo, mi rubate il bambino, poi torni con degli snack e vuoi limonarmi. Cioè, ma vai via. E quando hai bisogno di un po' di supporto extra, c'è un vecchio aerofilio, circa 10 o so mili south di qui. Prescott. Ci sono bui persone qui. Sono sicura che ti aiutano. Frammi, saluti Tetra. Siamo persone mature, stengiamo la mano, ma poi se ne va. Se lo ricorderà, ok. Maturo. Eh sì, visto, ho stretto la mano. Più maturo di così. Maturo as fuck. Ci sono cose che devi essere in vita per farle. Dio, la localizzazione. E' il bug lì dietro. Penso che mi rendo migliore. Mi dico una. Adesso lo aggiungo al pile. Maturo, Pog. Riformato, Pog. Reformed. Ho ancora bisogno di chiedere Lingard su AJ. Eh, con gli schiaffi no? Ah già, gli abbiamo fatto... Ma gli occhi rossissimi. Sembro io oltre quando vengo in live che mi ha dato un sapone negli occhi. Non mi piace di pensare a cosa Joan potrebbe fare con lui. Asegno di tutte le sue piacere, Sì, no, siccome è anche fatto, comunque, sì, è fatto. Ma questo è fatto per davvero, però, mi sa, c'aveva il laccio emostatico e una siringa vicino. E' una sicura forma di riuscire da Joan questi giorni. Eh, questa non l'ho capita, però. Non ho capito traglia, cosa vuol dire. Non lo so, David. Sì, ma dov'è adesso? Sì, ma dov'è adesso? E' inutile che continui a dire AJ si è ripreso. Sì, ma dov'è adesso? Sì, ma è una buona cosa. Io davvero credo che era una influenza positiva. David è la ragazza per cui i figli si è piaciuto ora, ma... ma dov'è mai stato. Quindi sta bene adesso, ma dov'è? Sì, 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 ma dov'è adesso? Eh sì, è certo, forse, esatto, ovvio, ovvio. 100 al giorno, almeno. Sì, è esatto, che lui ci diceva di non dargli le medicine. Se David ha preso così buona cura di lui, perché mi ha detto di chiederti di dove è AJ? È quello che è per loro. Sì, dillo, dillo. Sì, ma basta drogarti, dillo. Non lo dice? Io... Io solo voglio morire. Io voglio che tu, che tu mi occupi. Potete chiedergli questa cosa? È proprio la forma che è. Quando il tuo abbrottero mi trovò... Che brutto sto marchio. Che se ci fate caso, quello che c'è qua nel menu di pausa, fra l'altro, sembra una specie di due, non so se si vedete, sembra una specie di due. Con una sbarra in mezzo e un cerchio intorno. Non capisco che senso abbia. Basta che ci dici che... Grazie, che minchia, una che usa il cervello. Due, eh sì, è due. Sì che è due. No. Ma sì, no, infatti, no. Prima ci deve dire le cose. Prima ci deve dire le cose. Scusate, Clem, non possiamo fare questo. No, devo fare. Se non lo voglio, io lo farò. Clem, stop, non lo so, non lo capisco. Non puoi fare questo. Lasciami di me. Sto facendo il negozio. Siamo trovati AJ, ma non in questo modo. Non c'è un altro modo. Ho sbagliato, vero? Ho sbagliato qualcosa, vero? No! Javi! Come potessi? Cosa? Io sono un attimo confuso. No, è così. È il tuo figlio. Especialmente ora. Ora che Joan si riempia tutti i tuoi figli. Sì, è così. Tu ti dimenticare. Spero che lei non... Non lo so. Non lo so. Non lo so. Ciao, Clementine. Sono sorpreso di vincere tu qui. Sì, vi faccio proprio a te. Sei tutti buoni? Sì, siamo tutti iniziali. Sì, sì, tutto a posto. Buongiorno a te Ma Gabby ci prova con Clem? Non lo so Chi è Eva? Questa qua abbiamo impalato Cioè Eva, rosata Dove hai la mente? Mi sfotte pure Dove hai la mente? Mi sfotte pure Sto zitto Sto zitto Sto zitto Sto cercando di impegnarmi a capire cosa stanno dicendo Chi? Ah l'ingab Zitto è sfak, bravo Eh lo so Andre Zitto è sfak, bravo Eh Andre Perché non ti parli a parlare con Kate, ok? Ok Frenzon, Frenzon, Frenzonato Perché state spammando Frenzonato? Mi sono perso qualcosa? Non fatemi venire i colpi al cuore Gli infarti, perché state spammando Frenzonato? Sì esatto, smettiamola di prendere il tempo Sì esatto, abbiamo ancora tempo Sì esatto, abbiamo ancora tempo per arrivare in fronte di questo Prima che Joan possa fare qualcosa Sì Non so se non è Che? Ma io non mi spunti Sì esatto, mi preferisco trovare Sì esatto Mi piace il corte del tuo cibo, Javi Non possiamo solo cortare e correre Non con la coda Sì esatto Sì esatto Siamo stocati a Richmond E come stiamo a mettere i bambini su questo Joan e le persone saranno nella scuola, certo? Dobbiamo portare la coda Siamo chiamati Joan E poi un veicolo Bene Quindi Come facciamo questo? È una buona domanda Joan probabilmente avrà un dettaglio di sicurezza Sì esatto Sì esatto Da noi e da qualcuno in Richmond Che non si accende Non è male come idea questa Non è male come idea questa Non capisci un cazzo Più del solito Non è colpa mia Non è colpa mia Non è colpa mia Ma sei lo strigo Quanto enorme Che cosa? Non ho letto Il camion Finalmente qualcuno ha chiuso il cervello Ma non era mai stato questo Così grande sto posto Esatto Quello che continuo a dire io No Figurati Cosa te lo fa pensare Dalla finestra si vede un dipinto Non volevo farti preoccupare Non volevo farti preoccupare Kate Non legge nulla L'attuale autismo No ho perso due frasi Ho perso Sì 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 Ma a parte gli scherzi Dovremmo sceglierlo noi Il piano Ma Sì Sì Ma Modo del linguaggio Gabe Sì 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 Modo del linguaggio È mio padre Sì 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 E non voglio Niente L'altro Si Sì Se Sì 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 Non parlare con noi Parla col te Parla con l'io Sì 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 e perchè tutti hanno detto che le altre erano più movimentate basta ma si ma non è niente di serio tu mi guardi nei occhi, tu mi guardi pensi che i walkers che lo uccionarono tu eri proprio scoperto in questo tempo? aveva una scuola per loro se non lo ucciso, lo scoprirà clementine e gabe è dicendo la verità quando si ricordi che volevo andare a correre con new frontier si fu fuori si avrebbe tirato la scuola, nessuna questione credo che non lo sappiamo, certo? perchè non è qui per dire una cosa sembra che sei una persona molto pericolosa per essere qui, abbi prima ti mati a me e i miei amici a te metti a me e i miei amici a una lista di jonesa credo che mi bisogna dare un pollo spazio, abbi no lo so! non voglio vedere a te ancora! potrebbe essere migliorato con jonesa Invece io lo so che non mi prenderà in fronte! Scusate la piazza e stai fuori! O io non posso essere accaduto! Mi senti? Possiamo prendersi cura di noi. Noi, stiamo attorno a te molto più lungo. E probabilmente ci uccideremo anche. Scusate che è successo la forma di oggi. Comrade non era un buon ragazzo. La situazione era proprio... Se lo ricorderanno tutti! Se lo ricorderanno tutti! Dobbiamo andare a prendere quella tromba. Non so, non so. Allora ti ringrazio sul walkie quando vedo che cose si stavano in giro. L'unica che non mi odia ancora è Kate. Clementine mi odia perché ho sbagliato con la siringa. L'unica che non mi odia è Kate. E quella è Skin. Gli unici che posso ancora avere amico sono Kate e la Skin. Ok. Pazienza se mi odia la Skin, almeno teniamoci buona Kate. Una persona... A posto, almeno. Odiato dall'odio. Ma qual è il camion? Quello lì a destra, spero. Spero che non vogliate scappare con... Con la ruspa dei Salvini. Cosa vorrebbe dire questa frase? Quanto vaga. Cosa vorrebbe dire questa frase? Quanto vaga. Cosa vorrebbe scappare? Cosa è un lavoro importante, anche. Non è così importante che ottenere quella truca. Ehi Gabe, vieni. Ho bisogno di guardare la mia macchina su questo. Eh? E se te lo dice lei? Ok. X? 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 Niente. Ma si sente benissimo, ragazzi. Si sente benissimo. Prova, 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 prova. Prova, 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 prova. Dai ragazzi, madonna. Sì. Grazie. Grazie, Clemmy. Cosa stiamo guardando? Ma c'è pieno di Muertos lì? E non entrano? Cioè, sono tre assi di legno. Non credo che possano sarmarlo. Muertos è presa. E questi borsi non si prenderanno. Ah, ecco. Mi raccomando, parlagli davanti e attirane altri. Allora, abbiamo qua il gippone. Ma tutte queste faccine dove guardano cosa c'è sopra. Ma è un attimo di respiro in un'incredibile invasione zombie. Che strano. Ma non lo so questo, sai. Fammi camminare. Andiamo a guardare questo. La Ruspa Shepard. Lo zerbino di Clemmy. Sì, e mi sto inculando Clemmy. Io volevo solamente andare lì. E allora dobbiamo usare quest'altro. Credo che questo sarà usato per la costruzione. se il camion vuole riuscire questa area. E mi sa che finirà così. Eh sì, mi sa che finirà così. Mi sa. Allora, andiamo. Potevo andare direttamente lì e basta. Ok. Ma è il camion che ci hanno usato contro quando ci hanno assalito. È quello lì, mi sa. Cosa sono le possibilità? Io direi circa 50-50. Il grande Clementine che sa la statistica. C'è la probabilità. Non ho capito se sono persone che conosciamo o no. Samiada, non so di chi parli, ma ti prego. È spam quello. Noi sono le risorse. Come va, abbiamo bisogno di riuscire e finire prima che più persone si uccano. Cosa faremo? Non possiamo iniziare l'acqua. Non senza attraverso molta attenzione. Ok, tu stai. Il resto di noi saranno dietro il truck e cazzo. Vediamo se possiamo avere qualche disperto con il nostro. Un'altra mostra. Aiutiamo gli zombie a casa. Rara Ok, credo siano guadri random e stacazzo pt di pt di merda. Devo... moved real, regardez, è arrivato. Sono molto più bravo con la mano, con la... a destra. Ok Gizzo Canta, va bene, sì, non volevo dire cantare Gabe, sono sicuro che anche senza di te il camion andrebbe avanti Ma cosa dice? Ma cosa dice? Sbaglio Gabe alla voce di Jean Claude, ma sono già doppiati, non posso doppiarli sopra Ma cosa? Siamo a 30 metri Come sappiamo farlo? Uso la pelle di Gabe Tira uno sganassone a Gabe, così a priori Giusto perché se lo merita E Cosa abbiamo? No, queste qua immagino Ma cazzo un culo da Da lì babà? Sta roba Colpisci, colpisci? Con le pinze Allora, ok E Edz, direi Facile Nessuno si è accorto di niente, grazie Nessuno si è accorto di niente Manca Omega Ok, qui si è accorto Enigmi? Ma piano Minchia sta cazzo di culo però Che fastidio Ok Ci sta insegnando come far partire una macchina se non abbiamo le chiavi Io non l'ho mai... io non lo so fare, sono curioso Ma è così facile? Non credo Non credo che sia... Eh... Eh... Life-like questa cosa Non credo sia così... Real... realistica Eccoli che arrivano Sì, invece di... ma perché si accucciano? Sali, salite Che poi questi cazzo di tre film Non li ho mai visti Ma perché non hai mai preso a martellato la macchina? Tre film non li ho mai visti È solo per quel motivo Tutorial Tutorial Olè Guarda com'è compiaciuto Vabbè ma partiamo invece di stare giù, salite Ci sparano Se mi avessero fatto guidare sarebbe stato male Non so se è finito Però non è una fine... eh infatti Ok Il quadro è un paio di blocci Questo è un buon posto per aspettare Abbiamo abbastanza gas? Non sto parlando di prendere l'auto Inoltre Cosa ora? Ok 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 Non mi sono mai interessato Perché a far partire le auto così Stiamo a guardare l'alba Una cosa romantica Vi faccio Vi faccio notare una cosa abbastanza ovvia che è una cosa bella però Queste sono scelte di design belle L'episodio 4 Peccato che non sia il quinto L'episodio 4 sta finendo Come era iniziato il primo Con loro due davanti che si parlano E due bambini dietro Solo che prima erano Marijuana e Gaben Adesso sono Gaben e Clementine Però è un bel tocco di design questo E' bello di andare avanti Con un paio di bambini Allora Appunto Esatto L'ho appena detto L'ho appena detto io Il design dei giochi è una cosa È la cosa che forse A parte la colonna sonora Forse mi piace di più Quindi è la cosa a cui sto più attento Solo tu e me E Gabe E... Mari Tu sei vero Questo è bello Se io solo cerco i miei occhi Siamo inizialmente da dove eravamo Tutti noi insieme Faccio quello che faccio Cerca di pensare delle belle cose Come quando me la voleva dare Io l'ho rifiutata Perchè vengo in un minuto Ha! Non smetterò mai di prendere in giro avi Per questa cosa Non aveva senso quella frase Ho ancora capito Ho capito Ho pensato che si stava a giocare con lei Uh... In caso che non ti hai notato Gabe ha un piccolo crush su Clementine L'ho appena Spero che funzioni Spero che funzioni Che bel primo appuntamento Esatto Romantico Pazzesco Spero che Come 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 Ok Sto Apprezzando questo pezzo Vabbè Sapete che io sono di parte Sono un romantico Perchè Ma Perché io starei male lì Cosa vuol dire Non so cosa vuol dire Una delle più Non so cosa vuol dire la parte facile Cosa è la parte difficile Non capisco Ma non per forza Ma che frase è Non per forza Ah, in quel senso, ok, in quel senso, ok, perché ci sono gli zombie Ok, adesso è chiara la frase, se no non capivo Mariguana ormai è andata, basta Sì, Sasaskar Dammi l'observa Charla, cazzo, mi dà fastidio che non posso farlo Io sono così Cosa sta per dire? Oddio, no, aspetta, la sta costruendo molto male questa frase So che abbiamo avuto dei bei momenti, ma... No, no, dai E sempre sono un pocchio, un pocchio confusante e... No, PPS? Ma alcuni di loro non hanno mai significato nulla cosa Ma... Ma prima cosa che ci succederebbe, ci succederebbe... Si... Si! Ok Quindi ci siamo? Ok Sì S*** Stiamo facendo questo Se hai capito che avremo una conversazione dritta con David Certo? È il modo giusto per giocare questo L'ha già avuto la sensazione che stavo fuori Solo voglio poterlo dire in personale Sì, sentirà meglio in questo modo Andata, andata Ora mi manca solo riuscire a farlo nella vita reale Oh, è super male Javi, c'è una esecuzione qui Sì, sta parlando di prendere David in fronte dell'interno Che sta parlando? Sì, devi arrivare qui, ora Non portare il truppo, se lo vedono, li uccidranno Se puoi solo arrivare in un quadro S*** Sì, devi arrivare qui, ora Ora Bacio Car-a-a-a-ru Non ho capito Ce l'abbiamo fatta ragazzi, sono contento Sono contento Sono contento Chi se ne frega, lasciamolo morire Ora bisogna ficcare Sì Sì Tanto probabilmente dovrei riuscire a salvare la tipa Davvero, vabbè, salvo la tipa ragazzi Punto Eeeh Eeeh Cioè 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 Si chiama Kate, non si chiama tipa Eh? Rispetto Sì Ok, quindi l'episodio finale Credo che ci metterà davanti a una bella scelta E se fosse una trappola E se fosse una trappola? Sì No, ti prego No, ti prego No, ti prego No, ti prego Ti prego No Ti prego No Ti prego No Ti prego Finisce così Vabbè, dai Però Sono stati dei bei dieci minuti finali Sono soddisfattissimo di questi dieci minuti finali Ce l'abbiamo fatta ragazzi Ce l'abbiamo... Ah no, non è finito Si cos'è? Ragazzi Non avrei mai voluto fare questo video sfogo Ma devo farlo Cos'è? Greta... niente Fuori dalla... fuori dalla... fuori dalla Frenzo È stata governata da un piccolo principale Salva Clem o Orwe Riot Vedremo Vedremo Ma Infatti Le azioni di uno dei membri di questo consul Il nostro esperienza di sicurezza David Garcia Ha messo tutti Sì Si è zittita tantissimo Si è zittita tantissimo Ma non è... ma... le prove dai, scusami Con i miei occhi Vabbè Ma... ma... ma il gioio è impazzito completamente Non se ho nulla a farlo Non credo che questo succede davvero Sì 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 C'è stato uno strano stacco di Frey E' guerra Sì 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 Non so quale sia il nostro piano però eh Javier Ma eravamo lì in mezzo... cioè così palesi Pensavo fossimo un po' nascosti Pensavo fossimo un po' nascosti Sputtandola, sputtandola PPS Ok questa parte è abbastanza interessante Ok sti ultimi 20 minuti sono belli Ho avuto una conversazione molto interessante con il tuo amico Eleanor La mattina Certo Non è vero? Eleanor Sì Sì Beh avevo detto che era una trappola Sì 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 Anche Sì Anche Chi? Ma che casino? Oh no Sì 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 Oddio no Ese... Sì 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 PPS Sì 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 Non posso farlo Sì 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 Guardatevi che lì Per loro Ma hanno deciso di continuare con questo Non dovrebbero fare nessuno di questo Sanno che si è messo, non dovrebbero morire per questo Non ti rendi le regole qui? Io lo faccio Joan, sei sicura di questo? Non abbiamo deciso di uccidere tutti E' davvero per Javi, non è? Tutti gli occhi sono a te Potremmo questo aiuterà a creare la tua mente Poi? Ma cosa? Ma basta! Puntarermi a chiunque Chi sarà il tuo amico? O il tuo fratello? O il tuo fratello? Oh, vabbè! Questo è proprio stupido Non puoi essere seriato Dio di te, Joan E' la vera cosa, Javi Come potessi fare questo? Tripp deve vivere E' invaluabile Son of a bitch E' la vera cosa è vero con te? E cosa avrei dovuto fare? Qualunque cosa avrei dovuto fare Qualunque cosa avrei dovuto fare Qualunque cosa avrei dovuto fare Qualunque cosa avrei dovuto essere sbagliato per gli altri Scutti Aspetta Aspetta! Ho detto che Tripp deve vivere Hai fatto Ma c'è qualcosa di più che hai bisogno di capire La scuola Non puoi fare questo F*** di figure I can do anything I want You brought this on yourself Do it You can't No! No! Oh my god They really shot him Oh goddammit Now David It's your turn I can't believe this This isn't how we do things This is madness Stop or Clint? Is this the process you trust? No! Think about this hobby You know what's gonna happen here You ready for that? Non sto dicendo niente perchè non c'è bisogno di commenti in sta parte Ragazzi sono abbastanza preso Eh? Va bene? Ma quella ha un macete in mano Ma come possi? Si va bene cos'è Non te le ascolti, Javi Sono uccisi Tutti 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 No, 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 no! 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 Oh! No! Get down! Ah! ci abbiamo fatta uuuu lo stavo guardando per un secondo che palle ste cazzo di quick time event però ok abbiamo fatto la scelta giusta però abbiamo fatto la scelta giusta quick scope abbiamo fatto la scelta giusta stavolta per una volta ho azzeccato dai ok eh si ma folle questo episodio se gli sfarano ora david però mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace ci sono non io Ho fatto del male a Clemmy Eh sì E' incredibile la mia Perché se non meritavo Ho fatto una scelta giusta Siete ok? Sì la faccio venire qui Oddio no se viene qua magari muore No ti prego Se muore Kate smetto di giocare Se muore Kate è il quinto episodio e io non lo tocco Ma è lì davanti Cazzo di No 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 Pepe S Pepe S No Oh god Javi you've got to get over there before Cazzo di E' un bel 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 Per nulla predice ed. Episodio 5 Balzato Io al 8% abbiamo detto a Davide che era colpa sua, io al 43% ci siamo rifiutati.